Un buon consiglio non deve essere sempre costoso. Benvenuti al Medis Medical Marketing and Management. Saremo lieti di consigliarvi in modo serio e competente qualora aveste problemi di caduta di capelli, di alopecia, nonché nel caso di un eventuale trapianto di capelli. Il successo di un trapianto di capelli comincia con un consiglio esperto. In qualità di consulenti tricologici con oltre 28 anni di esperienza nel campo dei trapianti di capelli, vi consigliamo solo cliniche medici che offrono trattamenti di successo documentabili. Al fine di poter correttamente valutare la densità dei vostri capelli, lo spessore, nonché il colore e la qualità, dovremo eseguire un'analisi tricologica dettagliata. Sarete informati sul procedimento che sarà utilizzato nel vostro caso, sul metodo di trattamento più adatto alla vostra situazione e sulle possibili alternative. Ecco i presupposti per ottenere un risultato naturale. Riceverete poi un'offerta indicativa scritta che riporterà le spese relative al tipo di trattamento da eseguire. Vi seguiremo dal momento della consulenza fino a quando i vostri capelli non saranno cresciuti. Da noi la parola d'ordine è la completa discrezione.